Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Skygrind Survival Ho preso 15 Ender Eye E ora mi manca il sedicesimo e ho pensato dato che ho una ender per il sedicesimo Al posto di farmare altro oro Perché la fonte principale di scambio è stato l'oro Vado nel nether E uccido Un blaze Certo non ho pensato che ci fossero anche Questi cani e bastardi Ma io non li ho colpiti Ma io Io Non li ho colpiti Avevo le carote No 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 Non li ho colpiti raga C'è registrazione video Io non li ho toccati Dai vieni 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 Ok Qualcun altro Qualcun altro Ok quello l'ho incassato Beh dai merda Lui si lui si Eccolo c'ho anche questi cagni e bastardi che sono incassati qua vero Eccoli Allora Devo fare una cosa Una cosa intelligente Buttarli giù No Ah non sono incassati Beh se non sono incassati Quindi Buttiamoli giù lo stesso No Dov'è nato l'altro Ciao Ecco più giù vai più sono felice Grazie Ok cerchiamo di riprendermi la roba Non dovrebbe essere difficile Finchè non ci sono creeper E finchè il griefing E' disattivato Vediamo Chi è con l'incazzato Chi è con l'incazzato Vieni 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 Ok Te sei incazzato? Non sei incazzato Però quello se ti spara poi ti incazzi Ok prendi la roba e scappa 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 Ma porca Eva Non ci credo Mi era meglio se facevo il trade con l'oro Madonna Avevo 50 livelli Mi era preso anche i lapislazuli Potevo fare gli enchantment Ma Com'è che il blaze mi attacca? C'era una spadina qualcosa? Di pietra? C'era di ferro Faccio il culo o vi faccio? Sono sulla power eh? Mi cacazzi e mazzi Ok Andiamo Facciamo il culo Vi facciamo Stay tranqui Ok 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 ho preso la roba di diamante Ho preso la roba di diamante Prima posiamo questa Poi ne riparliamo Mamma mia Oh c'ho anche la blaze rod Perfetto Però prima voglio tornare Lo sei incazzato vero? Per fortuna che non è incazzato Ok posiamo sta roba di diamante e tutto Vado a riprendere l'altra roba che Mi esplosa in mano tipo Ecco qua guarda 15 Ehm Vabbè posa tutto Ok C'era ancora dell'oro Se non sbaglio 12 pezzi erano Cosa del genere E anche le carote Cioè se permetti Le voglio Ok Yolo 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 Aia aia Ma perchè mi attaccano anche i pigmen? Non gli ho fatto niente Perchè siete così stronzi Siete i pigmen di merda madonna Libano da minecraft Anche se non posso Dai qual'è quello incazzato Dai dai inseguimi Dai Bello che non dovrebbe neanche spawnare la Beh si in effetti può spawnare Yolo Merda 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 Ok ok non ce l'hanno con me Due carote e due pezzi d'oro Worth it Dov'è il nostro amichetto? Si è suicidato? Ah no lo sento Buongiorno Senta le dispiace un attimino Grazie Sono già Sono stragentili Non capisco perchè il minecraft teer non è mai così Se l'attacco uno del nether mi ammazza anche nell'overworld Sarà scemo lui Comunque C'ho la blaze road C'ho la blaze road C'ho l'hender pearl Ce l'ho Eccolo qua dove avelo nell'inventario Your next quest is to find the end portal Come find the end portal And dove cazzo lo trovo? Ok qualcosa mi dice che sarà la Non so perchè ma ho questo presentimento Forse forse è lì Non so perchè Non Ho questo Prurito davvero che mi dice No guarda E' la Intanto portiamo anche la canna da pesca Che buttiamo via quello scheletro Merda quanta cassa di gente che c'è Buongiorno Troppo vicino Buongiorno Troppo lontano Buongiorno E te va bene Devo colpire quello scheletro Guarda che c'è un arco della madonna Da qui dove riuscirci Merda Da qua ce la faccio vai Troppo lontano Ok Ora devo semplicemente prendere dei blocchi E questo potrebbe essere un problema Perchè probabilmente spawnerà altre gente Però io avevo della prismarina Vabbè c'ho anche sta roba qua C'ho tanta di quella roba Ho spawnato Cioè ho farmato tanto di quel ferro e dell'oro Madonna C'è uno da qua vai Sento dei rumori Spero che nessuno mi spari Ok Non sento troppi rumori Che è buono Mettiamo torcia a manetta Ah bellina sta isola Come si chiama sta Aspetta come si chiama sta roba Pozzolla Questo è il pozzolla C'è anche qua del legno Questo mi dice che Placepur to activate portal Ok Merda Adesso aspettare che ricresca Che palle Ehm Ti spiace crescere un attimo Merda Che fail che ho fatto Ehm Vabbè facciamo così Ci sta Ci sta Prendiamo torci anche qui Così non spona la merda Più totale Andiamo a prendere una Di quelle cose Non so perché solo una Probabilmente le altre Sono già inserite Non so a sto punto che cazzo Serviva a farmi fare 16 Sto cagno bastardo Andiamo a piazzarla Ponsi 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 Perché vedo dei puntini Ci sono dei puntini sullo schermo raga Ehm Quattro puntini Cazzo sta succedendo Ehm Se Due puntini Che problema ha? No ma io non volevo Non volevo andare nel nether Nel land No 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 fammi tornare indietro Come torno indietro? Ehm dove si va la sopra? Oh la madonna ma sono nel land sul serio? No ok non sono nel land Mi ha solamente teletrasportato Non mi piace come cosa Comunque mi sa che l'ho trovato il portale eh Non per dire Cazzo non c'ho manco cibo No raga E voi che cazzo siete? Come ti chiami? Protector? Ma Protector? Tua mamma Protector Spesso ero Però se mi droppa roba buona Molto volentieri Chi mi ha droppato? Niente Stronzo di merda Due alla volta però siete proprio stronzi Contora che c'ho la spalla di diamante E faccio il culo Ok diciamo che di qua non ci voglio stare Non ci voglio stare qua grazie Ragazzi abbiamo un piccolo problema Non so se avete capito Io sono qui Senza cibo Senza possibilità di tornare indietro Probabilmente morirò Ma c'è qualcosa qua dentro Ecco c'è quello Che fail Che cazzo di fail Ragazzi con questo io dichiaro ufficialmente che smetterò di giocare a minecraft e mi darò all'ipica Giocherò a tetris e diventerò un giocatore professionale di tetris Perchè semplicemente sono troppo scarso per giocare a sto cazzo di gioco E che Ehm Quanti fail che faccio madonna Quanti fail Sicuro più di Steppli E Brent E Vegas Tutti messi assieme Io mi grazie a tutti per la visione di questo episodio Ricordo di lasciare mi piace se vi è piaciuto O di iscrivervi al canale se quello l'avete fatto Ciao a tutti a tutti Ciao a tutti